buongiorno ore? direi che ci siamo no? giusto? molto bene aereo fa due ore questa è la faccia di un uomo sconfitto sta succedendo il nostro autista ci ha abbandonato perché doveva andare a pisciare? cosa non è più naturale di una pisciata alle tre e mezza di mattina? rivelazioni importanti allora ragazzi sono una donna cambiata sono le 4.36 del mattino stiamo per prendere un aereo con una compagnia improbabile oltretutto ma non ho così tanta paura come pensavo quindi ormai ho superato la mia fobia io sono sempre lo stesso sono le 4.30 e sono completamente rincoglionita buongiorno viatrame ciao ciao vietnam siamo in vietnam a noi ci ha presentato un po' il conto ovvero questa è la nostra via del nostro albergo cenni storici Isabel che una volta cacciati i cinesi dal vietnam lanciò questa spada in questo lago e una super tartaruga gigante di circa 250 kg con un po' mistica prese questa spada e la portò con sé negli abissi di questo lago e il potere della spada con cui l'imperatore cacciò i cinesi rimane in questa spada ecco il classico incrocio vietnamita leggi dei più forti ma poi si suonano per me con l'action e via come se come se come se sono arrivati da noi abbiamo trovato un posto dove mangiare consigliato dall'albergo improbabile dopo vedrete il video e le cose grazie non è una vacanza è un'esperienza di vita un'esperienza mistica mistica manca solo un peyote e ci siamo questo è per caratterizzare il tutto siamo veramente in difficoltà ma ce la faremo le facce delle nostre donne una è inutile fare così che pianto fino adesso scarafaggi nel veicolo sono stata fortissima è saltellata è saltellata cos'è? una viscia e ci sono poi fatta senza problemi ragazzi sono una donna cambiata al progetto De Stranger a bici mire c'è una puntina di gira ci siamo dimenticati di chi è uno spice C'è Garbett, Spice, Backstreet Boys, Stenzyk, tutto, riato. E' ufficialmente aperta la nostra rubrica, cose improbabili e dove trovarle. Ma guarda, potrei già uscire con un paio di libri e un paio di edizioni. Abbiamo fatto un'oca con 40 gradi che grida Oca Aldo. L'idea del ciotolame, in plastica, l'idea del ricordimento, simile al reparto Ikea. Siamo in Tupperway. L'idea del ciotolame, in plastica, l'idea del ciotolame. L'idea del ciotolame, in plastica, l'idea del ciotolame, in plastica, l'idea del ciotolame.